La città di Corigliano Rossano è la prima in Calabria per numero di residenti all'estero ed è 17esima in Italia. In totale sono 14.093 su una popolazione residente attuale di 74.850 abitanti. Il dato emerge dal rapporto Italiani nel mondo 2021, Fondazione Migrantes, nella tabella pubblicata da Calabria, terra dei padri, progetto promosso dalla Regione Calabria come contributo al turismo genealogico o di ritorno. L'obiettivo è dedicare un intero anno suonare al rilancio e alla valorizzazione all'estero del patrimonio storico, culturale e turistico della Calabria. Dobbiamo considerare che questi nostri fratelli non siano andati via per sempre e che abbiano la possibilità invece di poter ritornare, ma per poter far ciò ovviamente occorrono che ci siano le condizioni in loco e noi dobbiamo, il governo deve favorire questa possibilità di rientrare una sorta di emigrazione all'incontrario. Nel frattempo l'emigrazione continua, giovani e meno giovani lasciano la Calabria e Corigliano Rossano non è esente. Occorre potenziare le infrastrutture, investire sulle vocazioni turistiche ed agricole, sulla sanità, sulla giustizia e politiche mirate sul lavoro. E in atto una vera e propria fuga. Altrimenti noi saremo destinati come territori a morire perché tutti i nostri giovani stanno andando via. Ritengo che l'80 e il 90% dei figli delle nostre famiglie che sono in età lavorative come giovani laureati o diplomati sono quasi tutti fuori e non ci sta rimanendo nessuno. Vi sia la necessità di un lavoro sinergico, le amministrazioni locali, anche quelle intermedie, l'amministrazione regionale deve lavorare con il governo nazionale, quindi devono collaborare e lavorare sinergicamente per creare queste condizioni.